Buongiorno a tutti, siamo in redazione e abbiamo di nuovo gradito il nostro ospite, il rieletto sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani. Buongiorno Pierluca. Oggi parliamo di un argomento che interessa non solo il comune di Casorezzo. Abbiamo saputo che recentemente una questione che interessa l'ecosistema, quindi l'ambiente del nostro territorio, quindi Casorezzo ma anche tutti i comuni limitrofi, anche allargati fino a Bustoverolfo, più o meno dell'esticino, da un punto di vista ambientale. Parliamo di discariche. Con te avevamo già chiacchierato su quello che erano i progetti tuoi, della tua lista, del comune, la vostra battaglia nei confronti della discarica, quindi una battaglia civica. Adesso invece affrontiamo un argomento più avanti, diciamo così, quello che potrebbero essere delle norme che cautelano ancora di più i comuni che dovessero essere costretti ad ospitare delle discariche e che adesso vedremo questa questione come sta andando avanti. Per i nostri lettori e visualizzatori riassumici un attimino la questione. Allora, questo fatto è iniziato nell'assemblea pubblica del dicembre 2017. Noi sindaci abbiamo proposto agli assessori regionali che erano presenti quella sera di introdurre una norma aggiuntiva al piano regionale di gestione dei rifiuti. La norma era molto semplice, prevedeva che nei plis, nei piani, nei parchi locali di interesse sovracomunale non si potessero fare i discarichi. Allora, una norma del genere era chiaro che non poteva essere retroattiva, non andava a toccare la nostra questione che è ancora in sospeso. Della discarica di casorezza, ricordiamo. Del progetto di discarica che si vuole fare nel caso di casorezza. Ma andava a tutelare intanto a tutti gli altri plis. E in ogni caso, come tutti ci auguriamo, il TAR ci darà ragione, vuol dire che nessuno in futuro avrà in futuro a presentare altri progetti simili. Tutti i consiglieri regionali che erano presenti quella sera hanno condiviso questa proposta. Ti blocco un attimo. Quando avete fatto questa assemblea pubblica? Perché è importante capirlo da un punto di vista politico. C'erano solo assessori, consiglieri regionali della Lega che è comunque la regione in mano. No, no, c'erano di tutte le forze politiche. Era trasversale. Era una proposta trasversale. C'erano della Lega, del PD, di 5 Stelle e tutti si sono dichiarati d'accordo con questa proposta. Tant'è vero che è stata tramutata in una proposta di legge regionale presentata a duplice firma del consigliere regionale Borghetti, del PD e l'allora consigliere regionale Cecchetti, della Lega, che oggi è onorevole. Quando era stata presentata eravamo in chiusura. Eravamo in chiusura di legislatura della regione Lombardia. Infatti ci avevano chiesto di attendere le elezioni, il mandanti, eccetera, eccetera. Poi cosa è successo? Sono state le elezioni e martedì scorso, quando praticamente il presidente Fontana ha invitato tutti i sindaci neoeletti per un saluto istituzionale, per dire che avrebbe collaborato con i territori, proprio in quell'occasione il consiglio regionale ha scelto di non votare questa proposta. Fammi capire, fammi capire per Luca. Voi siete stati invitati da Fontana per conoscervi, per salutarvi. Il saluto istituzionale dopo la vostra elezione alle amministrative del 26 maggio. Parallelamente, mentre voi lavate, diciamo così, a mena seduta con Fontana, il consiglio regionale bocciava... Sì, ha scelto di non votare. Ha scelto di non votare. Cosa vuol dire scegliere di non votare una proposta di legge? Vuol dire praticamente si ritira dai lavori del consiglio. Quindi non verrà più preso in considerazione? Ecco, questo magari lo rivediamo, perché la nostra proposta è invece che venga ripresa in considerazione. Allora, quindi... Tra l'altro, chiedo scusa se interrompo, in quella stessa seduta, si può vedere sulla registrazione... Sì, poi magari la mettiamo all'interno dell'articolo. Sì, l'assessore regionale all'ambiente si è dichiarato contrario a questa norma. Che adesso è Cattaneo. Sì, io credo che in un momento storico in cui centinaia e migliaia di giovani ci chiedono di cambiare rotta, un assessore regionale all'ambiente, che è contrario a una norma salva ambiente, non è più accettabile. Sì, sembra proprio un controsenso. Tra l'altro, io così, mentre ti aspettavo, ho letto un po' di cose sui social. Cioè, oramai purtroppo la politica si trasferisce spesso sui social e sta incominciando un po' una vagare su questa questione qua. Cosa ne pensi anche di questo modo di gestire una cosa così importante, non solo per il tuo comune, ma per tutto l'ambiente. Tra l'altro, ricordiamo, lo sappiamo tutti, noi ci troviamo in un territorio con degli ecosistemi molto particolari. Quindi l'esticino ha un ecosistema molto delicato. indipendentemente dal fatto che dobbiamo occuparci dell'ambiente a livello anche nazionale, però il nostro territorio ha forse, come tanti altri territori italiani, più necessità ancora di preservare questo tipo di ecosistema. Negli anni scorsi è stato attaccato più volte con installazioni che hanno provocato anche dei danni. Esatto. Cosa sta succedendo adesso? C'è un po' di paretta, un po' di vagare, ho sbaglio, l'ho capito? Sì, qualcuno sta tentando di buttarla sulla solita diatriba da stadio con me contro di me, non è così. Quando le responsabilità sono state di città metropolitana le abbiamo evidenziate con decisione, così come quelle del PD che sta gestendo la città metropolitana. in questo caso la questione riguarda le regioni Lombardia, quindi evidenziamo le responsabilità di regioni Lombardia e del Consiglio regionale della Lombardia. Che ha deciso, il Consiglio... Il Consiglio ha deciso poi di non votare questa norma che tutela i plis. Ricordiamo questa proposta di legge che era stata, diciamo così, presentata, portata avanti da due politici di opposto, diciamo così, coloro, Cecchetti della Lega e Borghetti del PD, quindi era condivisa da tutti, non è stata votata, quindi questo vuol dire che nei plis, l'acronimo plis vuol dire parchi di interesse sovracomunale, quindi le aree verdi, diciamo così, che devono rimanere con delle destinazioni d'uso che sono da marco, d'aree verde, agricola, boschiva... Non votare questa proposta di legge potrebbe, ipoteticamente lo diciamo, potrebbe far sì che qualcuno che avesse un progetto di costruire una discale che non plisse, la possa fare. Esatto, come sta avvenendo appunto tra Casorezzo e Lombardia. Esatto, quindi voi continuerete ad andare avanti con la vostra battaglia, giusto? Assolutamente, noi adesso abbiamo chiesto un appuntamento col Presidente di regione Lombardia, Fontana e chiederemo al Presidente di ripresentare questa norma e di votarla perché è a tutela di tutti, ripeto, in questo momento storico si devono assumere delle responsabilità, bisogna cambiare il registro e questa proposta di legge regionale andava proprio in quella direzione, non vedo motivi per interromperlo, per cambiare direzione, tra l'altro senza nemmeno una spiegazione. E tra l'altro noi ti abbiamo ospitato qua oggi perché è una notizia che non conosce nessuno, nessuno sa, a parte forse chi è già impegnato nella battaglia delle discarche come Casorezzo e in altri comuni, ma nessuno sa di questa cosa, quindi secondo me è anche importante che i cittadini vengano a conoscenza quanto meno di quello che determinate aree della regione, regione, in questo caso la regione Lombardia, e determinate decisioni hanno poi sul futuro delle loro vite, delle nostre vite. Ma anche, ripeto, ad ampio raggio perché i plis non sono soltanto quelli dell'Occolo, ma ce ne sono tanti altri, quindi questa norma andava a tutelare proprio anche questi altri plis. Questa norma tutelerà tutte le zone che hanno, diciamo così, delle aree che devono rimanere verdi e quindi non possono essere imprimate. Tanto più che la regione Lombardia già da anni ha imboccato questa strada, noi conferiamo in discarica veramente pochissimo, cioè quindi una minima parte dei rifiuti prodotti, quindi non vedo nemmeno la necessità di pensare a costruire un'auto. Esatto, ma la costruzione delle discariche sappiamo che non dipende solo dai rifiuti. No, esatto. E fermiamoci qua con questa cosa. Grazie per Luca di essere venuto a chiacchierare con noi e a renderci doti su una materia che interessa a tutti e con una notizia che interessa sicuramente tutti i comuni del nostro territorio e dell'Alto Milanese. Esatto, sì. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a voi.